Inaugurate in consiglio regionale due mostre dedicate alle donne che potranno essere visitate sino al 21 aprile prossimo negli spazi espositivi del palazzo di piazza Oberland 6 a Trieste. Un mondo al femminile organizzata in collaborazione con l'associazione Obiettivo Immagine di Gradisca di Sonzo e con Occhi di Donna, Essere Donna in una società che cambia, realizzata dal comune di San Canziano di Sonzo con il Consorzio Culturale del Mulfanconese. Di passione che si svela nei dettagli immortalati da chi sta dietro, la macchina fotografica e di donne sempre e comunque belle, appunto perché donne, perché madri, perché figlie, sia esse espressioni di casa o di luoghi e popoli lontani, ha parlato il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovez, dando il benvenuto alle artiste e agli artisti nonché gli organizzatori dell'evento. Essendo il fine quello di proporre un quadro rappresentativo e naturale della realtà femminile, ha poi spiegato il vicepresidente di Obiettivo Immagine, Flavio Snidero, parlando di un mondo al femminile, si è scelto di evitare la ritratistica e di ricorso a foto realizzate in studio, ma di proporre una serie di scatti in bianco e nero con stampa del tipo fine art. L'esposizione che ne consegue riesce a rappresentare l'universo femminile con immagini di qualità e molteplicità di sfumature. Nasce nel 2016, dal volere dare un contributo ai 70 anni del riconoscimento del voto alle donne in Italia, la mostra con Occhi di Donna, ha spiegato l'assessore alle pari opportunità di San Canzian Zisonzo, Deborah Marizza. Già nel titolo esprimiamo il senso di cosa vogliamo rappresentare, una società che cambia e lo dimostrano i 15 scatti qui in esposizione, dove si vede la storia del passato e la storia del presente. Queste sono donne e testimoni del nostro paese, donne e mogli, madri, professioniste, politiche. E tra loro non posso non citare Flavia Cosolo che si sta battendo perché al famoso dolce tiramisù si è riconosciuta l'origine nel ristorante di suo padre, il vettorino di Pieri di San Canzian.